Via Libera, dell'Aula di Palazzo Cesaroni, al documento di indirizzo strategico per il turismo 2014-2016, predisposto dalla Giunta regionale. Ai 17 voti della maggioranza si sono contrapposti 4 voti contrari e 5 assenuti dell'opposizione. Si tratta del primo strumento di programmazione settoriale, predisposto con il nuovo sistema di turismo Umbro, dopo l'approvazione del testo unico e dopo l'abolizione dell'APT, con l'attribuzione di funzioni operative a svilupp Umbria. Il documento rileva, tra l'altro, come negli ultimi anni di crisi le presenze turistiche in Umbria si sono attestate sulla soglia dei 6 milioni, con un tendenziale aumento degli arrivi e una diminuzione della permanenza media. Nei prossimi anni si punterà su sviluppo tecnologico e innovazione, nuovo portale turistico, sistema delle app, qualità ambientale, qualità delle strutture e dell'enogastronomia. Nel documento vengono indicate le azioni che la regione intende portare avanti circa la governance, la definizione di ruoli tra i livelli istituzionali, specie per quanto riguarda la promozione e la realizzazione dell'osservatorio regionale, la qualificazione delle ricettività, l'offerta dei prodotti, la qualità dell'accoglienza, trasporti e infrastrutture, formazione e competenze, rafforzamento del brand Umbria e implementazione della strategia digitale, concentrazione delle azioni promozionali e di comunicazione su specifici mercati, rafforzamento della promozione integrata.